Siccità gravissima, allerta rossa, con possibilità per le regioni di chiedere lo stato di emergenza. Il Po è ai minimi da 70 anni e le immagini del grande fiume quasi a secco fanno proprio male. Le previsioni meteo sono molto preoccupanti, alte temperature con punte dai 35 ai 40 gradi e pochissime perturbazioni limitate alle zone montane per i prossimi 10-12 giorni. Fanno presagire che questa crisi verrà ricordata a lungo. Per ora l'osservatorio permanente dell'autorità distrettuale del fiume Po-Mite ha deciso di far proseguire, a livello però molto basso, intorno al 20% i prelievi per l'irrigazione e questo almeno per i prossimi 10 giorni. In questo modo si cerca di minimizzare i danni possibili sia per l'agricoltura sia per il fiume che se scende troppo in foce a una risalita salina molto prolungata, oggi già arrivata a oltre 21 km in Emilia a 20 in Veneto. E questa situazione rischia di distruggere l'ecosistema del fiume. Se la situazione non migliora potrebbe però arrivare lo stop totale ed immediato dei prelievi. Un nuovo incontro ci sarà a Parma il prossimo 29 giugno. Alcune regioni, Piemonte ed Emilia Romagna, hanno già inoltrato la richiesta al governo dello stato di emergenza alla luce anche del protocollo sugli impieghi che prevede per legge dapprima quelli civili per le forniture del comparto idropotabile e poi quello agricolo e poi via via tutti gli altri. Nel quadro generale il Veneto registra la maggiore criticità a Porto Tolle dove si interrompono le derivazioni in rigue fino a oltre 20 km dalla costa per l'intrusione del cuneo salino con parziale utilizzo delle derivazioni per lo più la notte e con la bassa marea. Oggi dal Po si derivano solo 8 m3 al secondo pari a oltre il 60% in meno di portata e questo mentre, come ricorda Lambi, il fabbisogno è al massimo. Già con i volumi attuali si avranno perdite di produzione mentre si teme che il protrarsi della situazione possa estendersi anche alle acque potabili. La scarsità d'acqua ha avuto anche già effetti sulla produzione elettrica che ora è al minimo. Preoccupano anche i livelli di tutti gli altri fiumi, in primis quelli del Piave in Veneto, mentre in Friuli Venezia Giulia il governatore Fedriga si appresta a firmare l'ordinanza di emergenza per avviare il razionamento delle irrigazioni. Il tagliamento è praticamente senza acqua ed anche i bacini della destra a tagliamento sono al minimo storico. L'approvvigionamento idrico potrebbe essere garantito dall'utilizzo eccezionale dei bacini di Verzegnis e Sauris, una situazione senza precedenti che induce ad un utilizzo estremamente oculato dell'acqua, cercando il più possibile di recuperarla per la sopravvivenza di orti e giardini. Le prossime ordinanze potrebbero infatti arrivare a vietarne l'utilizzo.